La settima edizione di Charmin Rosa a Lecce, una festa dei vini rosati e degli oli di qualità. Torna anche quest'anno questa manifestazione firmata dall'Associazione Italiana Sommelier di Lecce guidata da Amedeo Pasquino. Siamo alla settima edizione, quindi vuol dire che abbiamo lavorato e creduto nel rosato. Già da sette anni fa abbiamo iniziato a promuoverlo con questo evento. Nel frattempo il rosato è cresciuto, è cresciuto come qualità, è cresciuto sul mercato. Oggi il rosato non è più il terzo vino che non si beveva tantissimo e non si sapeva anche come abbinarlo. Oggi la qualità è cresciuta tanto, importante soprattutto per un territorio come la Puglia, importante quello che la Puglia ha dato al vino rosato. Il rosato ormai è entrato con tutti i meriti possibili nella accezione comune di essere la vinificazione di qualità per eccellenza. Il rosato per noi negli ultimi cinque anni è stato il motore che ha trainato anche il resto del segmento vitivinicolo e che ci ha dato protagonismo. Se poi ci associamo che non è più vero come si è pensato fino a qualche tempo fa che il rosato fosse soltanto argomento di scarsamente appassionati o di giovanissimi, allora capiamo meglio che invece bisogna ricominciare ad investire sul rosato, sulla sua valorizzazione, sulla sua promozione e sul suo essere motore di traino per farci arrivare meglio in tutti i mercati mondiali. Grazie Grazie Grazie